Giornata complicata ma direi una fumata, la definirei grigio chiara, nel senso che abbiamo trovato per quanto riguarda gli stipendi il seguente accordo. A oggi sono scaduti gli stipendi, gli stipendi verranno pagati immediatamente, tra oggi e domani vengono pagati gli stipendi. Per le tredicesime che non sono ancora scadute ne riparliamo tra qualche giorno. Quindi la procedura che era stata avviata di pagamento sostitutivo ha una risposta perché quegli stipendi scaduti vengono pagati. Nel frattempo l'impresa ha altri tipi di esigenze che sono assolutamente legittime anche se non collegate con il pagamento dei stipendi per quanto ci riguarda e che sono relative alle penali applicate per il servizio. C'è una partita molto lunga e molto complicata su queste penali, abbiamo promesso loro che attiviamo immediatamente un tavolo per affrontare questi temi perché finché ci si parla con le raccomandate non si risolve nulla, quindi venerdì 22, e questa è la seconda notizia, quindi a volte gli stipendi c'è anche la notizia sulle penali, venerdì 22 facciamo un primo incontro sperando di tenerci a testa bassa su questo problema per arrivare a definire una transazione che non sia eccessivamente penalizzante per l'azienda ma che sia rispettosa delle regole che il comune deve seguire.